Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze per traffico intenso code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peritola, code a pratti tra Pistoia e il Viglio per la 1. Le aree di servizio di Peritola Nord in direzione Pisa e di Serravalle Sud in direzione Firenze sono sprovviste di GPL. Sulla FIPILI per traffico intenso in direzione Firenze code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci e in direzione Mare code in uscita a Santa Croce. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori è chiuso lo svincolo di Poggi Bonzi Sud in uscita in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze in via Pisana per lavori di vieto di transito tra via della Casella e via Attavante. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!